Sono brillanti i risultati ottenuti dai giovanissimi atleti della Green Team Piacenza, a guidare queste giovani promesse nel pattinaggio-corsa Davide Tacchini, campione piacentino della discesa da diversi anni nello staff tecnico. Insieme al team di allenatori Nicola Armani e Paola Castagnetti facciamo parte dello staff tecnico, è un'esperienza che va avanti ormai da diversi anni, abbiamo anche con buoni risultati, abbiamo vinto diversi campionati regionali società e anche abbiamo atleti giovani a livello nazionale, dicevi giustamente come allenatore giovanile, la nostra società è partita dalle categorie giovanili e i più grandi adesso hanno 12 anni, quindi sono una categoria ragazzi. La maggioranza dei discesisti vengono dalla corsa, che è un po' la madre di tutte le discipline della velocità, quindi per dare l'idea è simile al ciclismo su pista, come idea di disciplina, quindi le gare più corte sono di 300 metri, le più lunghe si arriva anche alla maratona, quindi preparazione fisica e condizione atletica. Nel caso dei bambini, dei ragazzi così giovani, diciamo che ovviamente il nostro non è un approccio agonistico estremo, un approccio agonistico esagerato. L'agonismo è il nostro obiettivo ovviamente, però un agonismo adatto all'età dei ragazzi. Telelibertà è andata al patinodromo di Corsa Europa per assistere ad una seduta di allenamento e per vedere quindi all'opera i protagonisti della squadra, che hanno raccontato la gioia del podio, ma anche la fatica e la costanza necessarie per praticare questo sport. Cosa provi quando vinci una gara? Alcune volte piango e anche un po' sono morta e quindi vado sul letto della mia casa oppure mi sdraio sulla pista. Perché dopo c'è tanta fatica? Sì. Senti, ma quante gare hai vinto? Allora, i regionali forse quest'anno 8, allora quest'anno e l'anno scorso 8, quest'anno in tutte che ho fatto 3. Il risultato più importante è quello che ti ha dato più soddisfazione? Quando sono arrivata seconda a Cantù. Tu ti diverti sui pattini? Molto. Quante volte ti alleni? Quattro volte a settimana. È faticoso fare il pattinaggio? Alcune volte sì, alcune volte no. Perché alcune volte facciamo più lunghezza, alcune volte corta e quindi è più semplice la corta. Ti piacerebbe continuare? Sì, vorrei continuare, fare le gare e diventare allenatrice. Ho cominciato quattro anni fa e insomma successi a livello regionale più che altro. Qual è la tua categoria? Allieve femmine. Sono al secondo anno. Cosa provi quando sei sui pattini? Insomma è difficile da spiegare, però è comunque una bella sensazione.